questa volta ho messo i baffi così non mi riconosce vediamo un po' che succede vado a fare uno scherzo buongiorno io sono il signor lallone il papà di lallo e sono venuto qui perché lallo si lamenta io non sono lallo sono lallone ma lei che fa mi strappa i baffi perché adesso sei lallo è veramente una puzzona senti puzzolente mi hai fatto arrabbiare questa volta va bene senti ma ma perché fai così perché senti sempre questa musica noiosa tutto il giorno se a me piace metti un'altra musica bella per esempio quella che fa la 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 mi ce mi ce mao mao quella è bella che noia quella tutto il giorno così tutto il giorno così ma vi sembra normale tutto 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 Sì, sì, sì. un'altra volta l'urso